Io sono Ivan Sagnier, come è stato annunciato, vengo dal Camerun, sono in Italia dal 2008. Sono stato insegnato due anni fa dal nostro Presidente della Repubblica come Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il lavoro, l'impegno che ho svolto in questi anni per contrastare il fenomeno del caporalato e per cercare di ridare dignità a tanti schiavi che lavorano nelle nostre campagne. Vi racconterò la mia storia molto brevemente perché mi hanno detto che non abbiamo tanto tempo. Allora, il mio interesse per l'Italia nasce quando avevo cinque anni. Ero ancora ovviamente in Camerun nel mio paese, parte dai mondiali, mondiali di calcio, Italia 90. Il mio paese, il Camerun, viene a partecipare alla Coppa del Mondo, qui, e dagli schermi, dalla televisione scopre l'Italia. Divento fan della nazionale italiana, oltre ovviamente a quella del mio paese. Scopro Tottoschilaci e mi innamoro soprattutto della canzone ufficiale dei mondiali di allora, della canzone Notti Magiche di Gianni Nanini e Edoardo Benato che cantavo ovunque, in casa, a scuola. E' da lì che nasce un interesse molto forte per questo paese e decido da quel momento che il mio sogno, il mio obiettivo sarà quello di raggiungere l'Italia. Per quindici anni sono cresciuto con l'idea dell'Italia. Oggi il mio sopranome è l'italiano. I miei amici in Camerun, nel mio paese, quando mi chiamano non mi chiamano con il mio nome, mi chiamano con questo sopranome. Ed è così che riesco a realizzare questo sogno nel 2008, quando vengo a studiare qui, a Torino, dove mi sono laureato in ingegneria delle telecomunicazioni nel 2013. Però cosa succede nel frattempo? Che nel 2011, dopo aver perso la borsa di studio, che significava per me mantenermi per conto mio, ho dovuto cercare, sono stato costretto a cercare un lavoro e grazie al passaparola, un amico, un compagno, mi ha parlato della raccolta dei pomodori in Puglia, a Nardò, in provincia di Lecce. Arrivo a Nardò nell'estate del 2011, non conoscevo la Puglia, era la prima volta per me di andare in Sud Italia. Arrivo e rimango molto sorpreso, addirittura scioccato da quello che ho visto. Ho scoperto un centro di accoglienza dei lavoratori stagionali. Per me non era un centro classico, per me assomigliava a un centro di concentramento della seconda guerra mondiale. Ho visto tantissimi miei compagni braccianti, per lo più stranieri africani, che vivevano in quel luogo senza dignità. Molti dormivano per terra, dormivano in queste baracche fatte di plastica e di cartone. Per me era inadmissibile. Vengo da un continente, l'Africa, vengo da un paese, il Camerun. È vero, siamo poveri, però nella nostra povertà abbiamo la dignità. Ho scoperto un sistema, quello del sud, ma non soltanto del sud, perché poi vi dirò che questi fenomeni li ritroviamo anche al nord. Ho scoperto un sistema che ha tendenza a calpestare, a togliere la dignità di queste persone. Per fare la doccia, in quel posto, in quegli anni, bisognava aspettare cinque, sei ore, perché c'erano soltanto cinque bagni a disposizione per circa mille persone. Alcuni, come dicevo, dormivano in queste baracche di plastica, di cartone, di legno, altri dormivano per terra, nei materazzi. Ho dormito, ho comprato il materazzo, perché in quel posto si era sviluppato un'economia all'interno, gestita da quei potenti, i caporali. E siccome non ero lì per fare le vacanze, volevo tutti i costi lavorare, perché mi servivano i soldi per poter pagare le tasse universitari, il mio obiettivo era di laurearmi. E così che ho chiesto ai miei compagni, ma qui come si fa per lavorare? E mi hanno parlato del sistema del caporalato, un sistema che non avevo mai sentito parlare neanche nel mio paese. Questi caporali sono dei mediatori, sono degli intermediari che hanno il ruolo, hanno il compito di fornire la mano d'opera agli agricoltori italiani del posto. Questi caporali ovviamente sanno dove trovare la mano d'opera, basta recarsi in quei centri che noi abbiamo ridefinito ghetti. Basta recarsi in quei ghetti e prendere la mano d'opera. Quando i nostri imprenditori e agricoltori hanno bisogno di 50-200, dipende, lavoratori, chiamano il caporale e il caporale si recca, va in quei ghetti e prende questi lavoratori. E' così che sono diventato uno schiavo dei caporali, ma soprattutto dei nostri agricoltori. L'attività lavorativa nelle campagne inizia molto presto, alle 3-4 di mattina. Io ho lavorato d'estate durante la raccolta dei pomodori. I caporali si recavano con i loro mezzi di trasporto, che erano a pagamenti. Noi eravamo costretti a pagare una tassa di trasporto al caporale, 5 euro per farsi accompagnare nei campi di pomodoro e di anguria. E in un furgone da 9 posti eravamo lì 25. Era vietato al lavoratore di usare il suo proprio mezzo di trasporto per rendersi, per recarsi nel luogo di lavoro. Devevi per forza salire in quel furgone e pagare questa tassa di 5 euro. Io, a differenza degli altri, ho fatto i pomodori e il nostro lavoro consisteva a riempire delle casse, dei cassoni, da tre quintali. Il sistema di pagamento non era quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Il sistema di pagamento era cottimo, cioè la tua paga dipendeva, era proporzionale al numero di cassoni da 300 chili che riuscivi a riempire durante la giornata di lavoro. Una cassa da 300 chili veniva pagata dal caporale 3,50 euro. 3,50 euro per ogni 300 chili di pomodoro. Io il primo giorno ne ho riempito 4, quindi per 3,50 euro ho guadagnato un totale di 14 euro. Però dovevo scaricare tutta una serie di costi. Vi ho parlato dei 5 euro di trasporto. Il trasporto non era l'unico costo, servizio che dovevamo pagare ai caporali. Dovevamo pure pagare da mangiare. Eravamo costretti a pagare al caporale il panino. I luoghi di lavoro, le campagne, come sapete non si trovano nelle città. Siamo in campagna, lì non ci sono ristoranti e bar. E ci pensano i caporali. Un caporale ci venne un panino a 3,50 euro. Anche se non vuole comprarlo, devi comprare per forza. Dobbiamo pure comprare l'acqua che costa 1,50 euro. Quindi ogni giorno dovevamo mettere da parte 10 euro, minimo 10 euro. Dai 5 euro di trasporto, 3,50 euro del panino e 1,50 euro dell'acqua. Per cui il primo giorno ho guadagnato un netto di 4 euro. Per aver lavorato per circa 12-14 ore. La paga media giornaliera ad un bracciante, perché tutto dipendeva da uno di noi, dalla tua capacità fisica, dalla velocità. C'erano i compagni che riuscivano a riempire più di 10 cassoni. Io ero sempre lì a 4-5 massimo. La paga media era compresa tra 20 e 25 euro, in cui bisognava poi scaricare questi costi. Per ritrovarsi con un netto medio di, compreso tra 10 e 15 euro. Ci sono altri fatti. Il fatto, ad esempio, che se uno di noi si ammalava, perché quello capitava tutti i giorni, e si trattava di un lavoro faticoso, quello della raccolta dei pomodori. Chi lavora in campagna svolge un'attività molto impegnativa. E molti di noi si ammalavano. Lavoravamo d'estate, le condizioni climatiche, a 40-42 gradi. Siamo nel mezzogiorno, nel surf, è molto caldo. Siamo in piena campagna. E alcuni di noi zenivano, non reggevano le condizioni di lavoro, le condizioni climatiche. E un caporale, sapendo benissimo che lì, intorno o nelle vicinanze, non ci sono ospedali, ci pensavano loro, per accompagnare un lavoratore malato dal posto di lavoro verso l'ospedale, chiedeva una tassa di 50 euro di trasporto. Queste erano le condizioni che ho scoperto a Nardò. Dopo cinque giorni di lavoro ho deciso di ribellarmi. Ho organizzato una protesta. Uno sciopero è stato, questo sciopero è durato due mesi, è stato definito il primo sciopero dei lavoratori stranieri in Italia nel settore agricolo. Anzi, era il primo sciopero, il secondo, i sindacati fatti in Italia da 50 anni, compreso i lavoratori italiani. Il nostro sciopero ha portato a dei risultati molto importanti. Non era facile portare avanti uno sciopero di tale portata. Abbiamo subito tantissime minacce. C'era pure la mafia. Ricordo che quell'attività andava lì, in quel posto, da 30 anni. C'era un sistema di complicità. Tutti erano al corrente, pure l'istituzione. Non è che il caporalato Nardò si trovava in Camoron, ma era lì. E tutti era tollerato. Chiudevano gli occhi. Perché c'erano interessi. Interessi molto importanti. L'agricoltura è un settore molto importante. Però tutto si faceva a discapito della dignità di queste persone che venivano trattate da schiavi. Abbiamo avuto il coraggio di ribellarsi a questo sistema molto potente, nonostante le minacce. Abbiamo messo al centro la nostra dignità, la nostra determinazione per rivendicare i nostri diritti. Ed è quello che abbiamo fatto. Il nostro sciopero ha portato poi a dei risultati in attesa. Abbiamo ottenuto la legge sul caporalato. Un fenomeno che esiste in questo paese da decenni. Non è un fenomeno che arriva con l'arrivo, come dice un politico, dei migranti. Che sono i migranti che hanno portato il caporalato in Italia. Non è vero. Poi abbiamo ottenuto un altro risultato. Molto importante, secondo me, è stata la reazione della magistratura che ha aperto un'inchiesta. che ha portato all'arresto di 22 persone, tra caporali e imprenditori. Il processo Sabre, Sabre era il nome del capo dei capi dei caporali, un cittadino tunizino, si è concluso l'anno scorso con l'arresto di queste 22 persone. La loro condanna a 11 anni di reclusione, ciascuno per riduzione di schiavitù. la prima sentenza in Europa che vede le persone condannate per riduzione di schiavitù. Detto questo, ho scoperto che il caporalato non è un fenomeno isolato, non è un fenomeno che riguarda soltanto Nardò, la Puglia, ma tutta Italia. Questi lavoratori si spostano in una regione all'altra a seconda della stagionalità dei prodotti. Sono in Puglia, d'estate, in provincia di Foggia, 46.000 persone per la raccolta dei pomodori. L'Italia è il terzo produttore al mondo del pomodoro d'industria, dopo Cina e Stati Uniti. Il 90% del pelato mondiale viene fatto a Foggia e lì ogni estate ci sono 46.000 schiavi. Dopo la Puglia d'estate si spostano in inverno, vanno a Rosarno, per chi ricorda la rivolta di Rosarno del 2010. A Rosarno cosa vanno a raccogliere? Le arance, le agrumi. E lì sempre con i caporalli, la situazione è molto complessa, molto difficile a Rosarno in Calabria, perché lì c'è l'andrangheta. L'andrangheta che controlla il territorio, l'agricoltura, ce l'ha in mano al 70%. Poi una parte va al nord, il caporallato riguarda anche il nord, la provincia di Cunio, l'Astigiano, una parte va in Sicilia, in primavera per la raccolta dei pomodori di Pacchino. Quindi è un fenomeno strutturale. La nostra agricoltura regge su questo, regge sullo sfruttamento, sull'abbassamento del costo del lavoro, perché l'idea generale che si forma è la massimizzazione del profitto, al discapito dei lavoratori, di questi migranti. Ma non soltanto, si tratta anche di un fenomeno trasversale che riguarda anche i lavoratori italiani. L'anno scorso, due anni fa, nelle campagne della Puglia, è morta una donna italiana, Paola Clemente. Non so se avete sentito la storia di questa donna, italiana, non straniera italiana. Schiava dei caporali, che li trasportavano a 600 chilometri da casa sua, ogni giorno, dalle 3, dalle 4 di mattina. Lei è morta nelle campagne sfruttate. Questo è, e di Paola Clemente ce ne sono 20.000 ogni giorno, che partono dalle piazze del Brindizzino e del Tarantino. Per cui siamo di fronte a un fenomeno che riguarda la nostra nazione, che riguarda questo paese, che giova, che ricatta le persone povere. E oggi, come oggi, siamo veramente in pochi a interessarsi del fenomeno del caporalato e, in generale, dello sfruttamento lavorativo. Io ho deciso di impegnarmi, è da sette anni che sto lavorando per cercare di contrastare questo fenomeno. Però questa battaglia deve vedere la partecipazione di tutti. Non ho tempo oggi di parlarvi di un altro fenomeno che riguarda le multinazionali del settore agroalimentare, perché sono loro i veri caporali, io li chiamo in generale, perché loro giocano sui prezzi dei prodotti alimentari. E' da lì che parte il vero caporalato, perché con quei prezzi così bassi non dà margine ai nostri produttori. Però questo è un altro tema, il consumo critico. Ogni volta che andiamo a fare la spesa ricordiamo che dietro a quei prodotti che compriamo ci può nascondere il lavoro nero, il caporalato. Per cui il mio messaggio è sulla consapevolezza. Siamo una società molto indifferente, c'è un'indifferenza totale e sono qui per sensibilizzarvi. Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte, partire da voi. E' una battaglia che secondo me partirà soprattutto dal basso. Per questo sto qui e grazie per l'ascolto. Grazie, hai aperto una finestra importante. Grazie, molto importante. Grazie, grazie del tuo coraggio. Grazie.